Una nuova ondata di maltempo sta colpendo la Sicilia, con meteo particolarmente avverso. L'isola è interessata da basse temperature e soprattutto la parte orientale della regione è soggetta a maltempo, con precipitazioni nevose cadute a quote decisamente insolite. In alcune zone della Sicilia la neve è caduta copiosa anche sotto i mille metri di altezza. Particolarmente colpita l'aria etnea, dove si sono verificate tormenti di neve di eccezionale portata, con precipitazioni nevose anche superiori a un metro. Le tormenti di neve hanno raggiunto un'intensità eccezionale in concomitanza con l'arrivo della primavera astronomica. A causare questa nuova ondata di maltempo fuori stagione, è stata un'area di bassa pressione giunta dal bacino occidentale del mar Mediterraneo. Una grandinata ha colpito anche alcune zone del Catanese, provocando incidenti stradali. La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Acireale è intervenuta ieri sulla A18 al chilometro 74 in direzione Catania. Dopo la chiamata in sala operativa, la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per prestare soccorso alle persone che si trovavano già al di fuori delle proprie tovetture e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto era presente anche la polizia stradale e personale sanitario del servizio 118. Le cause dell'incidente sono verosimilmente da ricondurre alle avverse condizioni meteo e alla copiosa grandinata che aveva in buona parte ricoperto il manto stradale.